Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento in compagnia di Turbo Daily, come tutti i venerdì ci occuperemo del recap settimanale, questo però dopo aver dato le indicazioni su un'altra idea operativa. Ora cosa dobbiamo dire? Ieri la BCE ci ha stupito e ha iniziato ad alzare i tassi che era una cosa in linea con quello che stanno facendo le altre banche centrali a livello mondiale, quindi diciamo che è stata un po' più proattiva. Questo però non ci deve distogliere da quelli che sono i veri market mover che ci sono sui mercati, in particolare stiamo vedendo quello che sta succedendo sul Nasdaq. Andiamo quindi sul grafico per fare un'analisi dell'indice americano. Abbiamo avuto una fase di crollo veramente importante, insomma dall'inizio dell'anno il Nasdaq è stato decisamente sotto pressione. Poi che cosa è successo? Sostanzialmente sembra che il trend quanto meno di breve si sia invertito, abbiamo avuto questi due massimi ma soprattutto abbiamo avuto dei minimi crescenti. L'idea di fondo è che comunque siamo già impostati tendenzialmente a rialzo su alcuni strumenti, l'idea di fondo è quella che si potrebbe attendere un ritracciamento su questi livelli che sono delle aree che prima erano una resistenza, sono state violate e quindi oggi rappresentano una fase, un'area di supporto per impostare un trade con un buon rapporto di rischio rendimento, quindi con un rischio contenuto a fronte di un rendimento elevato che poi coincide con i massimi di periodo registrati soltanto all'inizio di giugno, massimi di periodo all'interno comunque di un trend ribassista che pare però aver invertito rotta grazie ai rialzi degli ultimi giorni. Ora come si imposta questo tipo di strategia? Semplicemente si va sul sito di investimenti.bnpparibas.it e si va a selezionare il certificato adeguato, nello specifico si fa cliccando su certificati a leva, turbo e mini future, si va nella sezione dedicata, indici, nasdaq, long che è quello che faremo, quindi andiamo a selezionare quello che ci interessa, qui abbiamo tutte le varie declinazioni sia con prodotti open-end che prodotti a termine. Io nello specifico sono andato a prendere un prodotto che avesse scadenza a fine anno perché non voglio, diciamo, mantenere la posizione per un periodo di tempo troppo elevato che mi offre comunque una buona leva, dici quasi sette volte, è un livello di knockout molto distante dai prezzi che batte il mercato in questo momento, si tratta dell'NLBNPIT1BPA7, questo strumento è quello che vedremo all'interno della piattaforma. Ci andiamo subito, io come potete vedere l'ho già selezionato, ha un valore di circa 18,50€, vi ricordo che nonostante il Nasdaq sia un prodotto normalmente contato in dollari, i certificati vengono negoziati tranquillamente in euro e si può comprare anche un minimo di un solo certificato quindi investendo meno di 20€ per singolo prodotto. Noi andremo a comprare a livello di 15,90€ per 63 pezzi che come al solito è un investimento di circa un migliaio di euro a fronte appunto di un'esposizione sul controvalore totale di circa 7.000€. Bene il nostro ordine è stato già inserito in borsa in attesa che possa essere eseguito magari in apertura di mercato qualora ci fosse una correzione per riportare i prezzi laddove appunto ci interessano. Come ogni venerdì tuttavia andiamo a fare il recap delle posizioni in portafoglio devo dire che abbiamo chiuso delle operazioni in profitto quindi abbiamo liquidato alcune posizioni ad oggi non siamo particolarmente esposti quello che diciamo ci sta facendo soffrire in questa fase sono i long su euro dollaro che sono decisamente in sofferenza in questo momento ma sono delle operazioni che io mi sento abbastanza tranquillo di mantenere perché nel caso dovessero andare male comunque questi prodotti hanno uno stop loss implicito ed è legato appunto al valore del livello di knock out quindi qualora dovesse andare male sappiamo che la nostra perdita è limitata al valore del certificato. Altri trade invece che mi stanno un po' preoccupando di più rispetto a quelli su euro dollaro i long sull'oro l'oro dovrebbe essere un bene rifugio i mercati comunque hanno corretto da inizio anno dovrebbe essere favorito all'inflazione in questo caso comunque sta scendendo probabilmente il motivo è legato al fatto che c'è stata una che i tassi si stanno alzando e l'oro è un prodotto che non paga dividendo. Molto bene il long su intesa aperto nella giornata di ieri probabilmente sui minimi di periodo. Bene andiamo quindi a vedere a ricapitolare quelli che sono i livelli operativi per la strategia sul Nasdaq che abbiamo individuato oggi si entra long da 12.185 punti lo stop loss andiamo a mettere a 11.825 punti quindi sotto quella soglia psicologica dei 12.000 punti target price come detto a 12.875 punti da parte di Enrico Lanati per questa settimana è tutto io vi saluto vi ringrazio e vi auguro un ottimo weekend grazie a tutti